La giusta tensione interiore consiste nel non desiderio di raggiungere subito una realizzazione, ma di saper vivere a fondo ogni momento che precede una qualunque realizzazione. La totalità è il principio e la pluralità è la legge. Noi non esperiamo mai direttamente il trapasso. Quando il trapasso avviene, noi siamo già in uno stato di coscienza diverso. Noi esperiamo solamente la paura o l'accettazione del trapasso. La trasmutazione mentale è la capacità che ha l'uomo di agire sulla propria mente, cambiando lo stato del proprio animo. La giusta tensione interiore consiste nel non desiderio di raggiungere subito una realizzazione, ma di saper vivere a fondo ogni momento che precede una qualunque realizzazione. La totalità è il principio e la pluralità è la legge. Noi non esperiamo mai direttamente il trapasso. Quando il trapasso avviene, noi siamo già in uno stato di coscienza diverso. Noi esperiamo solamente la paura o l'accettazione del trapasso. La trasmutazione mentale è la capacità che ha l'uomo di agire sulla propria mente, cambiando lo stato del proprio animo. Grazie. Grazie.